Il dispositivo di controllo straordinario del territorio, previsto dal Piano di Azione Nazionale e Transnazionale Focus Drangheta, stabilito in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, prosegue con maggiore intensità anche in provincia. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Siderno hanno effettuato numerosi posti di controllo lungo le principali arterie di comunicazione, nonché diversi controlli ad esercizi commerciali. Sono stati sottoposti a controllo 221 persone, di cui 54 con precedenti di polizia e 93 veicoli. Sono stati effettuati 14 posti di controllo e 6 perquisizioni domiciliari. In base ad un mirato modulo operativo sono stati controllati 63 soggetti sottoposti al regime di detenzione domiciliare. Inoltre sono state sottoposte a controllo diverse attività commerciali a Siderno e Locri, nello specifico una sala scommesse, un supermercato e un bar in Siderno e due supermercati in Locri. I carabinieri della liquida radiomobile di Rocella Ionica, unitamente ai colleghi della stazione di Mammola, hanno tratti in arresto in flagranza Scali Rodolfo, 51enne originario di Mammola, già noto per resistenza e minaccia pubblico ufficiale. Nel corso di un servizio preordinato di controllo del territorio, in quel comune, i carabinieri hanno notato il soggetto per le vie di quel centro e, essendo il medesimo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, gli hanno chiesto la carta precettiva e i documenti d'identità. Lo stesso, all'atto del controllo, poneva viva resistenza, minacciando ripetutamente i carabinieri, che conseguentemente lo traevano in arresto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, lo Scali è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari. Mentre i carabinieri della stazione di Gioiosa Ionica hanno sottoposto a fermo il ricercato De Masi Massimiliano, 43enne di Martone, in esecuzione a un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Locri, in quanto fortemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine e comuni da sparo. L'uomo, a seguito delle pressanti ricerche dei carabinieri, si è presentato spontaneamente presso la citata stazione. Come si ricorderà, lo stesso era attivamente ricercato dal luglio scorso, quando a seguito di una perquisizione effettuata dai militari presso un'abitazione in suo uso, erano stati rinvenuti 60 kg di marijuana, oltre 1.500 semi di canapa indiana, due fucili con matricola brasa, una carabina alterata e una pistola risultata oggetto di furto.